Con il termometro a infrarossi a penetrazione Testo 104 IR puoi eseguire controlli di temperatura e misure al cuore con un unico dispositivo. È certificato secondo l'HACCP ed è il compagno affidabile per entrambe le misure. La misura a infrarossi è ideale per controllare rapidamente la temperatura della superficie. La confezione rimane intatta. Basta puntare il laser, premere il pulsante e il gioco è fatto. Se la temperatura superficiale supera il valore limite, è necessario eseguire un ulteriore controllo con una misura della temperatura interna. Estrarre il puntale, forare e leggere il valore misurato. Dopo la misura, il puntale può essere facilmente lavato sotto l'acqua corrente. Scopri di più sui termometri combinati IR a penetrazione Testo 104 IR, presso il tuo distributore o direttamente da testo.